La Uda in Piazza Grande a Perugia Dove si mette? Un'euro, dove ti? Da una parte E dove? E in due? E in due la manetta prema il pulsante e il foglio No, questa qui forza Ah si E questo è un punto facile Girare Oddio Sparavi? No, sono troppo alto Vedo il palazzo Vedi qua a vedere Sembra da vedere chi sia vicino Guarda il palazzo e il muro Ehm... Ah, va girato Aspetta